Dopo la nota stampa di ieri sera che annunciava sei nuovi cittadini positivi al Covid, tra questi anche uno studente dell'Istituto Bairo, un nuovo comunicato del sindaco Adamo Coppola della città di Agropoli nel quale porta a conoscenza la cittadinanza di altri casi positivi al coronavirus nei plessi di Via Verga. Di seguito il comunicato stampa del primo cittadino. Mi è stato appena comunicato che sono emersi alcuni casi di positività tra gli studenti dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, frequentanti la classe dell'insegnante, risultata positiva nei giorni scorsi e nella scuola dell'infanzia, già da giorni in isolamento fiduciario, in attesa dell'esito dei relativi tamponi. Sono più di dieci le insegnanti che si sono alternate nelle supplenze all'interno delle classi e per questo in attesa di valutazione da parte dell'ASL per l'eventuale inserimento nella catena dei contatti. Questo stato di cose non permette alla dirigente scolastica di assicurare la continuità didattica in presenza. E per questo mi ha fatto richiesta che ho accordato di chiudere i plessi di Via Verga sia della primaria che dell'infanzia per la giornata di oggi, martedì 23 febbraio, in attesa di aggiornamenti da parte dell'ASL, resta aperto il plesso di Via Selvi.